Il mercoledì come il consueto spazio alla pallavolo dalla serie A1 andiamo alla B femminile cominciamo dalla serie A1 dove Bergamo prova di forza e spugna Pinerolo per 3 a 0 dopo la sconfitta in casa sul primo test in portante contro Chieri Pinerolo era una trasferta che anche qua poteva dare segnali in portanti per quanto riguarda le prime 7-8 posizioni di questo campionato cioè l'accesso anche alle Final 8 di Coppa Italia e infatti la formazione piemontese stava subito dietro la squadra bergamasca in classifica ma nella partita non c'è stata storia Bergamo ha dimostrato la propria forza vincendo 17-25, 23-25, 20-25 dunque per 3 a 0 Bene l'Aivans in palleggio e forti le solite Mlienkova e Montalvo che è stata anche l'MVP di giornata migliore realizzatrice con 16 punti ma in un risultato così secco vedere 4 giocatrici che vanno in doppia cifra è cosa molto importante infatti come vi han detto la Montalvo 16, Mlienkova 14, Manfredini 12 e anche Lapiani è andata in doppia cifra con 11 punti praticamente ormai già prima della fine di andata è archiviato il discorso salvezza ora veramente si pensa ai primi 8 posti e domenica alle ore 17 il parafacchetti Treviglio arriverà la Milano della Enogu già sold out praticamente i 3.000 biglietti per il parafacchetti andiamo a vedere i risultati di questa serie 1 femminile con Chieri che vatte anche tra le foglie a 3 a 1 Cuneo Busto Orsizio 0 a 3 incredibile formazione di Busto Orsizio che era partita la ultima nella classifica non aveva fatto punti poi nelle ultime 5 giornate 4 vittorie da 3 e 1 vittoria da 2 per il nuovo allenatore Barbolini che ha cambiato questa formazione Firenze Perugia 1 a 3 Milano Conegliano 0 a 3 Novara Talmassonse 3 a 2 Pinerolo Volley Bergamo 0 a 3 E Roma Scandici 1 a 3 per una classifica che vede Conegliano a 30 punti ricordiamo Conegliano, Milano, Novara hanno già giocato una partita in più poi Milano 22, Scandici 21 Novara 20, Chieri 17 e troviamo Busto Orsizio e Bergamo a quota 15 passiamo poi alla serie A2 e qua abbiamo in campo la formazione della CBL Costa Volpino che dopo aver vinto la prima partita in questo campionato domenica scorsa in casa contro Mondovici ripete e va a vincere sul difficile campo della Picco Lecco per 3 a 2 partita fondamentale era questa per non farsi prima di tutto staccare in classifica ma per sognare ancora del quinto posto che a questo punto non dista più di tanto perché è soltanto due lunghezze di distacco e poi vincere la Taranileco non è mai facile un Lecco che ricordiamo tre settimane fa una partita casalinga aveva saputo battere addirittura Mariano un 3 a 2 che se vogliamo lascia anche un po' di rammarico per come sono arrivati i parziali perché i due vinti della CBL sono stati vinti nettamente il primo 14 a 25 e il quarto 11 a 25 c'è stato un passaggio in mezzo piuttosto così e così per la squadra allenata da Cominetti con parziali persi per 25 a 22 a 25 a 20 sfatato così anche il Tabutei Break che finora li aveva visti sempre perdere per la squadra di Costa Volpino che invece questa volta lo vince per 10 a 15 questa volta la trascinatrice di Costa Volpino è Labrandi con i suoi 23 punti si prende anche l'MVP di giornata a 15 punti troviamo Ferrarini e Buffo 14 punti per la Zago che è in ripresa ora il prossimo turno per la CBL Costa Volpino sarà di nuovo la pala CBL domenica prossima alle ore 17 quando arriverà una delle grandi di questo campionato che è Balducci Macerata ma a questo punto se Costa Volpino riesce a essere consapevole della propria forza Limare magari anche certi difetti potrebbe fare anche il colpo a sorpresa i risultati del fine settimana sono Macerata Castelfranco 3 a 1 Mondovì Imola 3 a 2 Messina Casal Maggiore 3 a 0 Lecco Costa Volpino 2 a 3 e Valsabia Vrescia Marignano 1 a 3 per una classifica che vede Messina a quota 23 line vede in classifica ricordiamo che il punto perso praticamente da Messina è stato contro la CBL e basta segue poi Marignano a quota 21 Balducci Macerata e Valsabia Vrescia a quota 18 la quinta posizione che vorrebbe dire pre-off e salvezza sicura in questo momento è appannaggio tra Imola a 10 con insieme alla piccoleco Casal Maggiore a quota 9 Costa Volpino in grossa risalita che si porta a 8 punti Castelfranco 4 punti e qua c'è il grosso ramarico perché praticamente Castelfranco i punti che ha fatti li ha fatti quasi tutti a Costa Volpino e poi Mondovì che si sblocca la formazione che fino a questo fine settimana si trovava a quota 0 però battendo Castelfranco si porta a 2 punti passiamo poi alla serie B1 maschile l'avevamo detto praticamente che quest'anno lo scansa lo sciate non è quello delle ultime 2 stagioni e sta disputando un campionato un po' sotto alle attese infatti i numeri parlano chiaro dopo 8 giornate lo scansa lo sciate non ha ancora visto una vittoria netta per 3 a 0 e ha visto addirittura anche 2 sconfitte in questo torneo quella di Ongina qualche settimana fa e soprattutto quella di questo fine settimana contro un cazzago di centro classifica ma bestia nera dello scansa lo sciate che batte la formazione bergamasca per 3 a 0 28-26 27-25 i primi due parziali tirati persi comunque dello scansa lo sciate e poi il terzo squadra scarica si perde per 25-19 sabato prossimo tra le mura di scansa lo sciate arriverà Carpi e qui obbligo la vittoria non solo per tornare al successo ma anche perché si affronta una delle squadre di bassa classifica perde anche l'altra formazione bergamasca cioè Grassobio che sicuramente sta avendo un inizio difficilissimo nel campionato anche qui non ci si aspettava una cosa del genere la squadra dell'MGR perde in casa contro Bologna con i parziali 19-25 21-25 25-21 e 21-25 i risultati a fine settimana sono Montichiari transporto 1-3 Ongina Mirandola 0-3 Caselle Crema 3-0 Grassobio Bologna 1-3 Modena Cremonese 0-3 Cazzago Scanzaro 3-0 Carpi Asola Remedello 2-3 Riposato Vittorio Veneto E chiudiamo poi con la serie B1 femminile con la Don Coleoni Trescore che incassa praticamente il settimo campo consecutivo e resta dunque al penultimo posto in classifica Si perdete per 3-1 perdendo 25-16 25-18 poi vincendo il terzo parziale 16-25 e perdendo il quarto 25-16 Il sabato prossimo nella palestra di Trescore sarà importante trovare il primo successo di questo campionato visto che si affronta la formazione attualmente sul fondo della classifica ancora quota 0 Valtellina che finora nel corso del campionato delle 7 giornate ha vinto soltanto 2-7 ma ha perso tutte le partite